ciao ragazzi benvenuti nel mio studio oggi parliamo di setup invernale nonché le varie cupole e casotte con il tetto scorrevole il setup invernale è quando noi dobbiamo affrontare la condensa tutto qua non c'è da cambiare tubo non c'è da cambiare il setup non c'è da ribaltarlo c'è solamente da inserire quegli accessori che ci servono per combattere la condensa appunto sulle fasce anti condensa ho fatto un video riguardo con un test di temperatura ma di base noi dobbiamo affrontare questo problema perché è un bel problema quello della condensa che da metà ottobre fino a marzo questo problema noi ce l'abbiamo insomma sono tanti mesi e noi se vogliamo fotografare dobbiamo per forza munirci almeno di fasce anti condensa le fasce si dividono fondamentalmente in due due rami ci sono le fasce manuali con controllo manuale e le fasce con controllo automatico i sistemi per automatici possono essere il pegasus astro oppure eagle core che ha a disposizione tutti e due i sistemi hanno a disposizione un sistema automatico di rilevazione della temperatura e della condensa il cosiddetto punto di rugiada quindi questi due sistemi permettono in automatico di rilevare e accendere automaticamente le fasce anti condensa poi c'è sistema manuale sistema manuale ci sono diversi tipi di sistemi manuali uno di questi è ancora il pegasus astro però con comando manuale quindi siamo noi ad intervenire e qui si apre una bella parentesi perché noi dobbiamo intervenire prima un po prima che la condensa si formi come facciamo a fare questo ci sono dei dei siti internet dove calcolano il punto di rugiada cioè quindi in base alla temperatura esterna vanno a calcolare in base anche al al fattore di umidità vanno a calcolare il punto di rugiada l'esatto punto di rugiada quindi se volete intervenire manualmente voi dovete mettervi lì guardare il termometro che arrivi più o meno al punto di rugiada e poi intervenire non si attivano prima perché si ottiene un effetto potreste essere voi a causare la condensa se accendete prima le fasce prima del dovuto quindi dovete aspettare il momento esatto il momento esatto qualche minuto prima che la condensa si formi perché se la condensa si è già formata accendere le fasce non serve assolutamente a niente perché il calore che si che si crea all'interno del tubo sarà minimo e sarà proprio quel minimo calore a eliminare e tenere fuori dalle scatole diciamo così la condensa mi aggancio al setup invernale per farvi vedere una cosa come potete vedere a schermo questo è il dom si tenta sempre di dare nomi inglesi quando poi l'italiano dovrebbe la cosiddetta cupola adesso io sono sul sito di prima luce lab ma ce ne sono tantissimi di siti tantissimi di siti dove vendono questo tipo di sistemi perché io vi ho fatto vedere una cupa perché ce ne sono tantissimi di modelli ora io seguo come molti di voi dylan o'donnell venecito 2 e trevor jones sono i due quelli più diciamo anche se ce ne sono altri le differenze sta che dylan o'donnell ha non questo particolare modello ma ha il modello con la finestra la fine solo la finestra questa finestra ha un bel in confronto in confronto a quello che ha trevor jones che ha il modello che si apre a metà quindi c'è mezza cupola dove lui manualmente va a tirare su per poi andare a fotografare quindi c'è il modello motorizzato con finestra e il modello manuale dove si va ad aprire manualmente il dom dove stanno le differenze belle differenze stanno che se si adopera una cosa del genere in inverno si avrà la cupola che per il 95 per cento è chiusa essendo poi motorizzata in contatto con la montatura quando si sposterà la montatura il tubo si sposterà anche la finestra e quindi se abbiamo dei lampioni il vento e la cosiddetta condensa e comunque il freddo in sé farà più fatica ad entrare in una finestra sola e comunque se si è all'interno per fotografare già il calore umano nonché il respiro nonché un piccolo portatile o se si ha a terra un computer fisso già quello basta per cambiare la temperatura interna del dom rispetto alla temperatura esterna ma basta anche starci dentro quindi il solo calore umano e il continuare a respirare già cambia questa temperatura ma farà comunque più caldo dentro che fuori in questo modello quindi anche la rugiada anche la cosiddetta condensa farà più fatica ad aggredire il tubo proprio perché per il 95 per cento questa cupola è chiusa parlando invece di cupola manuale si evince proprio secco che se io apro metà cupola avrò se ho del vento è completamente inutile quella cupola lì e anche la ruggia anche il la cosiddetta condensa è ovvio che se io apro mezza cupola avendo aperto e avendo solamente mezza cupola che mi salva da dall'aria diciamo così da tutti dagli agenti atmosferici aprendo io mezza cupola condensa aria illuminazione se ci sono dei pali della luce lì vicino i riflessi e quindi capite bene che se si ha anche una casetta con il tetto scorrevole questa soluzione per per quanto possa essere figo in inverno non ha senso perché comunque se si scoperchia un tetto se ci sono e qui non voglio tanto esagerare però se c'è un vento a 12 nodi qui di solito quando c'è un vento a 15 nodi si sente quindi stiamo bassi vento a 12 nodi se io scoperco il tetto il vento arriva sia da est che da ovest indifferente il vento arriva trova la scaffa la staffa della casa entra in più l'umidità che è nell'aria si deposita all'interno della casa e se abbiamo sempre la luna è un discorso un po' particolare perché se si ha una soluzione del genere e abbiamo la luna per esempio a destra e noi stiamo fotografando dritto i raggi della luna non vengono presi direttamente nel telescopio ovviamente ci sarà un inquinamento luminoso del potere ma la luna non influirà molto sullo specchio perché comunque la cupola la fa la padrona copre protegge dai raggi come protegge dai lampioni dalla luce diretta del lampione come dalla luce diretta della luna poi dopo ci si inquinamento luminoso anche questo non aiuta però per quegli agenti che possono essere condensa inquinamento luminoso diretto nonché vento e non sto parlando di un tornado ma sto parlando di venti comunque fastidiosi che se voi prendete una montatura mettete fuori anche con la guida attiva se c'è un po' di vento non c'è un cavolo da fare niente con questo sistema questo sistema è l'unico che riesce a attutire questi tutto quello che ho detto mentre se si ha una cupola che si apre a mezza luna e non motorizzata andrà bene primavera estate e metà autunno diciamo idem per le casotte con il tetto che scorre anche quello è in inverno è completamente inutile ad operarli a meno che non sia un clima secco che non ci sia umidità allora sì queste casotte si portano nel deserto di atacama e lì si può ad operare ma tornando al nostro amico trevor jones molto probabilmente lui l'anno una umidità e quindi si può permettere perché poi ci sono anche dei posti dove non c'è tutto questo umido io parlo di cremona qui domenica sera c'era un'umidità del 78 per cento capite bene che se siamo in un paese in una zona dove c'è il tasso di umidità a spaventoso questo è uno dei pochissimi sistemi che funziona aiutandoci non è che elimina non è che la condensa non entra nella cupola entrerà anche lì però farà molta più fatica e quindi per concludere il discorso condensa abbiamo noi esseri umani poveri tra virgolette sempre perché comunque questo hobby se uno lo pratica vuol dire che qualche soldino riesce a tirarglielo dentro quindi lasciando stare il dom dobbiamo munirci di fascia anticondensa che è l'unico sistema che possiamo avere per combattere la condensa e se c'è vento non usciamo andiamo a leggerci un libro guardare la televisione che forse è meglio quindi per concludere abbiamo visto i vari sistemi di osservazione che possono essere il dom chiuso al 95 per cento semi aperto manuale dove noi possiamo andare a tirare sulla cupola e fotografare all'interno non so che senso possa avere una cosa del genere e la casotta con il tetto che scorre che si è una protezione per il nostro telescopio e sinceramente aspetterò di diventare milionario per comprarmi il dom motorizzato una casotta con tetto scorrevole ha dei presi ma anche moltissimi difetti proprio per determinati insomma discorsi cosa c'è cosa c'è cosa c'è fatti vedere eccolo qua al gatto ciao gatto buongiorno lasciatemi un like per sopportare il canale iscrivetevi al canale mi raccomando e noi ci vediamo prestissimo per un nuovo video ciao ragazzi ciao